Hello guys, benvenuti in questo nuovo video. Il pacco coreano è arrivato ben prima del previsto, quindi sono molto contento e vorrei tanto spostare le cose che ho trovato. Allora, il contenuto del pacco erano due box della luce della distruzione, due Pharaonic Guardian, quindi abbiamo anche qualcosina dedicato al formato GOT e Crisi Scarlato, mi pare fosse così in italiano. Ovviamente dedicheremo un video per ogni box e questo video ho deciso di dedicarlo a luce della distruzione. Prima di continuare, se vi interessano contenuti retroformat come il formato Edison, Tenguplant e altri formati che, tempo permettendo, arriveranno e ho anche unboxing di vario tipo da prodotti TG o CG come appunto quello che vedete qui davanti, anche abbastanza old school, iscrivetevi al canale. È gratis e soprattutto supporterete me e il mio lavoro. Tornando a noi, piccola premessa, il pacco, come vedete, è coreano, quindi è composto da 40 bustine e ognuna di queste contiene 5 carte e la rara non è nemmeno assicurata. Allora ragazzi, il motivo per cui porto questi tipi di unboxing. Allora, diciamo che molti di voi mi hanno chiesto nei commenti, ma giustamente in maniera molto molto lecita, dove comprare, diciamo, espansioni in merito al formato Edison. Però, c'è da dire che il formato Edison è per l'appunto un retroformat, quindi trovare prodotti odierni, in particolare TCG, che possono soddisfare le aspettative, è un pochino complicato, non voglio dire impossibile, a meno che non si voglia spendere un patrimonio. E' un pochino complicato comunque. E quindi, diciamo, cerco di fare questo unboxing, questi unboxing assieme a voi, per mostrarvi, diciamo, eventuali bustine che possano, diciamo, interessare quel periodo, diciamo, storico. Per l'appunto, luce della distruzione, contiene il reparto fedele della luce, come abbiamo visto, abbiamo, vabbè, il paladino, come cacchio si chiamava, GICE, una cosa del genere. E abbiamo trovato anche la ricarica solare, che, meno male, appunto, fa parte del reparto Light Sworn. E ci sono varie carte, appunto, magari, per potersi buildare quel tipo di unboxing Light Sworn, per l'appunto, che è anche uno dei più forti del formato. Comunque, abbiamo anche il Gizarus, figata assoluta, ancora non abbiamo trovato una foil. Diciamo che l'obiettivo proprio succoso è quello di trovare, vabbè, da una parte l'onesto, ma in maniera ancora più desiderata, diciamo così, è il Judgment Dragon Ultimate, che spero vivamente di trovare in due box, anche se è molto, molto complicato. Per l'appunto. Però, ragazzi, noi ci proviamo, insomma. Ma questo, chiaramente, si è un altro Gizarus. Un wolf, il wolf è comune qua, ok. E, altra cosa, ragazzi, già che ci siamo, è che le rarità, giustamente, io ho un po' anche per esperienza, tanto da aprire i vari pack, che potete recuperare, volendo, vi linko qui la playlist, le varie espansioni, o nello specifico, oscurità fantasma, che sarebbe l'alter ego, appunto, di luce della distrazione, possiamo dire. Vi linko l'unboxing e vedrete, appunto, che le carte sono di diversa rarità, come per l'appunto, il Dark Army Dragon, in oscurità fantasma, lo trovi raro. Cioè, tipo, what the fuck, ah, la voglio alti, che sì, andiamo a spendere 300 euro, se vogliamo quello da turbo pack, però, per ora, almeno, diciamo, non è un obiettivo, anche se mi pare un po' eccessivo pagare sempre per le carte così, così tanto. Tanto, tranne per qualche eccezione, magari la vuoi da esposizione, perché è la tua carta preferita, quindi, a quel punto, lo capisco, magari, appunto, sia un collezionista e, per l'appunto, la desiderio. Ognuno fa quel che vuole con i propri soldi, quello assolutamente giusto e normale. Allora. Pacchetti, diciamo, TCG, come al solito. C'è Dusa, che però non si trova più. Foil? No, il batterino. Ah, abbiamo là. Ah, ecco, è vero, mo' che ci penso? A proposito di Edison, il dolce della distruzione, non so se fosse un'esclusiva TCG, non mi ricordo. Ci dovrebbe essere la Substuod, come cacchio si chiama. Con lei, in inglese o in italiano. Run a scambio, ecco. Quella là, metà demone, metà angelo. Che dovrebbe essere qua dentro, cioè, non è stata l'unica di stampa esistente. E costa un pochettino per il formato Edison, quindi diciamo, anche per quello non è uno dei mazzi che ho reputato da inserire nella top low budget deck, visto che ognuna di quelle può arrivare... Eccola qua, l'ho chiamata. Ognuna di quelle può arrivare a costare anche 6-7 euro per una rara. Ne dovete giocare 3, quindi diciamo che non è proprio il massimo, però potreste comprare per l'appunto pack coreani, come ho fatto io, e risparmiare magari qualcosina. Avete anche il piacere, che ne so, con 30 euro, che è il prezzo o bene o male di un box coreano, anziché comprarvi 3 carte, potreste avere il piacere di sbustare un box intero in coreano, per carità, la valkyrie è sicura molto figa, in coreano, per carità, però per l'appunto mi trovate le carte che vi servono. Certo, agli eventi ufficiali non potrete giocare le carte in coreano, nella questione tcg o cg tcg, però un rico, un figo, però per l'appunto se giocate fra voi amici, giocate in fumetteria, il negoziante, d'accordo, è la community, appunto, la complicola, come chiamarla, insomma, è d'accordo, non fatevi problemi, giocate tranquillamente, Yogi è un gioco, per l'appunto, dovreste trattarlo come tale, che poi i wolf, mo li stavo vedendo, io li ho ordinati da card trader, spoiler, però mo li sto ritrovando qui, vabbè, questi sono comuni, è vero, però magari li posso anche dar via in futuro, volendo, se servono pure a qualche mio amico, io li do, tranquillamente, probabilmente, allora, finora ragazzi, nemmeno una foil, non so se effettivamente esista, diciamo, un numero minimo garantito di foil all'interno del mazzo, oh, questo pure è molto carino ragazzi, per il mazzo Jinso, e se rallongevo anche un certo numero di piace, vi porto la decklist del mazzo, un mazzo veramente carino e particolare, ormai un po' meno unexpected rispetto alle prime volte, però fidatevi che se vi piacciono le macchine, mi piace Jinso in particolare, fidatevi che è un mazzo decisamente figo e divertente, un limite evocazione, oppure non è male questa, mi sto mettendo un po' la parte delle carte che conosco di base, e questa è buona di side potenzialmente, forse magari in Edison un pochettino meno, dipende sempre da... abbiamo la prima foil, che è il nostro Judgment Dragon, vorrei trovarlo Ultimate, devo essere sincero, però, dai, non ci fa schifo, non ci fa schifo affatto, però Ultimate decisamente più bello, è la mia rarità preferita, poi, voi invece, quale rarità preferite? fatemelo sapere qui sotto nei commenti, se le cose, le secret, le parallel, ci sono le secret, come si chiamano, secret parallel nuove, che sono fighe, però, porca troia, ragazzi, non pensavo che il gioco arrivasse a... cioè, manco il gioco, che la community facesse arrivare i prezzi di determinate carte, questa che cos'è? Questa non la conosco, sta carta, buh, what the fuck, vabbè, far arrivare a 600€ carte, è vero che hanno un ratio, mi venirebbe da dire, basso, però, buh, vabbè, parere mio, ragazzi, non prendete sempre con le pinze, è sempre una mia opinione personale, che poi, effettivamente, io dico così, ma io i soldi ce li spendo in carte, come vedete, appunto, sono sempre, quanti box? Sono 5 box, più quelli dell'altra volta, fatevi un po' i conti, ho fatto un po' l'investimento per il canale, oh, ottimo, 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 abbiamo due di queste, decisamente, ottimo, ragazzi, almeno, volendo, posso montare anche Frogmonar Shardio, se dovessi trovare la... oddio, WUN ce la dovrei avere in italiano, un tempo ne avevo tantissime, le ho date a un mio ex compagno di team, vabbè, ovviamente, ci sentiamo, ci sentiamo ancora, però, giustamente, lui non gioca più, però mi pare di avergliele, avergliele date, o quantomeno sono scomparse le mie, un altro limite vocazione, che non ci fa male, anche se ne ho abbastanza, mettiamo così, dato che sono le carte, eh, siamo a metà box, quasi, sto registrando, io non mi era preso un infarto, ho detto, oddio, ne che non sto registrando, mi sono giocato un box, ho fatto porca miseria, un Gizaros, un Gizaros comune, però fa troppo ridi, ragazzi, cioè, perché da noi, obiettivamente, tutte queste carte, come il GD, il GD da noi si trova secret, cioè, praticamente, non mi ricordo se i vecchi box avessero come, cosa piste a trovare una secret a box, cioè, è un box, l'appunto costava, e costa, sui 70, 80, 90 euro, eeeh, tipo, what? E noi continuiamo a spostare, nel chiantillo non troviamo nulla, infatti non troviamo nulla, allora, ragazzi, questo, siamo ad 11 minuti, è il momento del chiantillo, quindi, eh, però, il chiantillo non si può evocare così, deve essere sentito, tipo, non troveremo un cazzo, non troveremo mai un cacchio. Allora, la tecnica del chiantillo, la ripeto, come in ogni, in ogni video, e potrete vederla, diciamo, in maniera molto più sentita, nello scorso video di oscurità fantasma, consiste nel dire, che ne so, state giocando una partita online, state perdendo, dice, no, abbiamo perso, abbiamo perso, e poi vincete, quello è il chiantillo, in questo caso sarà tipo, ah, non trovo nulla, non trovo nulla, e poi trovate, tipo, il, il mondo, tipo, per esempio, JD Ultimate, noi non, non lo troveremo mai, sperando che questo discorso possa valere almeno per il prossimo, per il prossimo box. Oh, raga, stiamo a trovare più foil, il box, ovviamente, è quasi finito, eh, cioè, abbiamo trovato una foil, excuse me, è quel bastardo del mio amico, è anche il moderatore del serverdisco, quindi se volete generare tranquillamente, quello ne ha trovati due di JD Ultimate, se non erro, io, a malapena una ultra, signori, please, c'è, lo sculo è finito, cioè, funziona solo a quella postazione lì, ho cambiato presente, posto sul tavolo, e non funziona più, è solo la scrivania mia del copio, l'onesto, signore, abbiamo la seconda foil, l'onesto, che, beh, figo, ultra, però, già ce l'ho di questa rarità, quindi mi sarebbe piaciuto averlo di un'altra rarità, certo, non raro, comune, però, secret, ghost, non so se esistono in coreano, I really do no, però, diciamo, abbiamo trovato le carte più rappresentative del, del set, che sono loro due, per l'appunto, la MJD Ultimate, ehi, oddio, oddio, abbiamo trovato un Ultimate, però, questo che è il Destiny Hero, ma non mi ricordo il nome, beh, figo, figo, molto figo, lo faccio vedere un po' meglio, ecco qua, però l'Ultimate è uscita, quindi, abbiamo trovato solo tre foil, però, allora, qui, constateremo ora in diretta la cosa, cioè, in diretta, durante il video la cosa, togliamo due, ok, perché non sei uscito tu Ultimate, bastardo, stavo dicendo, volevo constatare il fatto che uscissero almeno due super a box, però, vedremo ora, ok, la prima super, quindi, calcoleremo ora se effettivamente si avevano la cosa, magari non tagliamo le carte, e continuiamo, siamo quasi alla fine ragazzi, eccola qua, la seconda super, quindi, vediamo se vi ritira sta cosa, mancano solo tre pack, e non credo riusciremo a traer GD obiettivamente, dai, abbiamo trovato già due, due, come si chiama, due Ultimate, è un pochettino complicato trovare la terza Ultimate, ok, no, abbiamo una terza super, non mi ricordo quante super avevo trovato nel box precedente, però mai lo scullo di quando ho trovato il Blue Ice Secret Parallel coreano, certo, vale meno di quello giapponese, però, pur sempre è un ritiro abbastanza basso come carta, ok, stiamo a trovare solo super ora, quindi, ah, erano quattro mi pare le super, non mi sono confuso, ok, questo assomiglia una carta Cosmo, oltretutto, e poi ragazzi faremo anche il confronto con, vabbè, qua non c'è nulla, siamo anche abbastanza veloci, ed ecco qua, infatti, non c'è nulla, ok, box, poteva andare meglio, poteva andare meglio, perché, diciamo, come Ultimate avrei preferito il GD, però, ci faremo sperando con il prossimo box, e per l'appunto, a proposito di box nuovo, faremo anche il confronto fra questo, quindi mettiamole così poi, quando dovrò fare il video, quando farò il video, caricarò il video, le vediamo, ce le avrò davanti, diciamo le carte utili, e lo confronteremo con l'altro, quindi ragazzi, io vi ringrazio per aver visualizzato il video fino a questo punto, scegliete voi qui sotto nei commenti quale prossimo box vorreste vedere, se oscurità, fantasma, luce della distruzione, pharonic gardiano, crisi scarlatta, quindi scelta vostra, fatemi sapere qui sotto nei commenti, raggiungiamo abbastanza mi piace, e cercherò di caricare questi video, vorrei caricarli una volta a settimana, però, se raggiungiamo abbastanza mi piace, cercherò di caricarli, diciamo, un po' prima, al mio punto di vista, e per youtube, converrebbe più che di caricarsi sempre una volta a settimana, quindi, in ogni caso, da me e le mie forbicine è tutto, e ci vediamo al prossimo video, see you next time!